Nella preghiera sono tre elementi, la grandezza di Dio, la nostra inferiorità, e che siamo davanti a Dio, siamo cospetto di Dio. Sì, ma dovrai dati fila, è imperativo che tu abbia questo chiaro, se non la ti fila, scartata, non la ti fila. Questi tre elementi sono elementari per la te fila. Sì, per questo è una cosa importante che uno deve togliere tutte le distrazioni prima della preghiera. Vuol dire che se uno ha fame o deve andare in bagno o c'è un telefonato urgente da fare, deve togliere tutte queste distrazioni da sé e concentrarsi nella preghiera. Per questo è una persona che deve stare attento appena si svegli al mattino, non andare a fare altre cose che ti stanchi, che ti concentri, che ti stressi e poi non riesci più a fare la te fila. Prima cosa, la te fila. Hai bisogno di mangiare un bicchiere di tè, un biscottino o qualcosa per rafforzare la te fila? Benissimo, fallo. Vai, ti lavi, vai in bagno e mangi qualcosa e poi ti concentri e fai la te fila giusta come si deve, con cuore e con animo, come stai parlando davanti a voi. Cioè, farla superficialmente di corsa non ha significato, non ha significato. Non è te fila. Cosa è te fila? Te fila è un'unione con Dio. L'unione, per essere fatta bene, deve essere fatta con amore, con timore, con intento, con la preparazione giusta. Se è fatta così... Grazie. Grazie.